Mescolare, sbattere, bollire, cucinare, tritare, schiacciare, rompere il ghiaccio, vaporizzazione e bilancia digitale. Con Kiwi Thermo Cooker multifunzionale la tua cucina è ora molto più semplice. Kiwi Thermo Cooker è molto facile da usare. Con accessori appositamente progettati ti consente di preparare un'ampia varietà di ricette. Grazie alle sue avanzate funzioni di miscelazione e cottura, piatti di carne deliziosi, piatti di pesce meravigliosi, verdure al vapore, piatti di pasta appetitosi, zuppe corpose, deliziosi frullati, salse saporite, puoi anche preparare salutari purè e pappe. Grazie alla velocità di miscelazione, alla temperatura e al tempo di cottura facilmente regolabili, il cibo viene mescolato direttamente, cotto e tenuto caldo in un contenitore di acciaio inossidabile. Con Kiwi Thermo Cooker puoi rompere il ghiaccio per le tue bevande, puoi tritare i pezzi, frullare le uova, impastare e preparare la crema. Grazie alla bilancia di precisione integrata puoi pesare facilmente tutti gli ingredienti nella giusta quantità. Il Kiwi Thermo Cooker si pulisce facilmente. Dopo ogni uso aggiungere un litro di acqua pulita e alcune gocce di detersivo per piatti nella ciotola, quindi premere più volte il tasto Pulse, rimuovere la ciotola di miscelazione e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Questo è tutto. Fare attenzione a non bagnare i circuiti elettronici nella parte inferiore della tazza di miscelazione durante il risciacquo e non lavare nessuna parte del dispositivo in lavastoviglie. Puoi pulire tutti gli altri accessori con acqua e detersivo. Kiwi Thermo Cooker soddisfa molte esigenze nella tua cucina. Ti fa risparmiare tempo, spazio e denaro.